Ehehehees, setso volante. Mostragielo, bis pelle. Non c'è bisogno di essere masturbato, amico mio. Ehi Skeletor, tu aiuti qualcuno, che fratellino. Essi, fratelli, ho preso il mutuo. Dai, oggi dovanno così, fratelli. Oggi dovanno così. Forse se io aiuterò te a ottenere il segretto... tu aiuterai me a conquistare il Cernia. D'accordo? Oh.. no! Oh, sì, oh, 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 sì, oh. Devo dire che è sempre un piacere fare un viaggio alla luna di Phantos. Abbandona immediatamente Phantos. Ora torniamo a casa. Amen. Scheleton. Guarda qui. Tira. Adesso, sesso, guai. Sì, padrone. Guardateli bene, eroi. Credo che i nostri amici si faranno Beastmen. Sì. Sì, esiste una sola via di uscita, i men. Le altre portano il mio cazzo. Il mio satellite ci farà diventare padroni assoluti e di eterni, mio signore. Puoi dimostrarmelo? Molto interessante. La nostra povera casa, completamente distrutta. Raga, che cosa non darei per un passaggio segreto? Se non riesci a trovare un passaggio segreto... Ho! Come dice la leggenda, Scheleton ama e vuole Melakta! Il tempio del cazzo reatto, per essere preciso. Melakta! Aiutatemi! E' sempre tempo per qualche addominale. Una persona non ha alcun bisogno dei superpoteri per essere un eroe. Gli basta soltanto essere... E-man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Non l'hai ancora vinto, E-man. Ritornerò! Avete visto come potrò potenziare a crescere le difese di Eternia? Qualcuno ci potrebbe rimettere un dito, oppure un braccio, o addirittura un occhio. Rivederci a presto!